42 anni arrestato a Gela dalla Polizia di Stato per tentata estorsione e incendio di un panificio. Sono stati due gli episodi che hanno condotto ai reati contestati dalla Procura della Repubblica Gelese e sono stati poi i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza ad eseguire l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti di CS. Un 42 anni a cui sono stati contestati due episodi incendiari scaturiti da una tentata estorsione aggravata che l'uomo avrebbe compiuto nei confronti del titolare di un panificio e della sua attività. Tutto si sarebbe verificato lo scorso novembre quando a distanza di pochi giorni ci sono stati i fatti. Le modalità particolarmente allarmanti, visto l'uso del combustibile e gas, hanno fatto partire da subito le indagini serrate e coordinate dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Gela e delegate al Commissariato di Polizia. Due episodi incendiari sono stati commessi di notte durante l'orario di chiusura. La prima volta sarebbe stato danneggiato l'ingresso del panificio, sia la base di marmo che la vetrata. Le fiamme avrebbero poi annerito la saracinesca e le pareti all'interno del panificio, tra fiamme e fumo. Poco dopo, un secondo atto incendiario, in cui fu utilizzato un materasso dato alle fiamme, su cui era stata appoggiata una bombola di GPL che fortunatamente non esplose, la cui deflagrazione avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Così nel corso delle indagini preliminari è emerso che l'indagato avrebbe in un primo momento richiesto di poter acquistare materie prime dalla parte offesa e avviare la propria attività di panificazione. Poi, in un secondo momento, l'uomo avrebbe tentato di imporre alla vittima l'affitto di un immobile di sua proprietà per spostare l'attività commerciale e chiedendo anche di essere assunto nel panificio, a distanza di pochi giorni dal no della vittima, il verificarsi degli eventi. A supporto delle indagini, le immagini dei sistemi di videosorveglianza utili alla ricostruzione dei fatti hanno restituito agli inquirenti elementi univoci di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato.